Gennaro Scognamilio, countdown verso l'inizio del campionato, però immagino ti dispiace non essere presente per questo debutto. Sicuramente la partita è importante, non esserci da un po' fastidio, però c'è da scontare questa giornata di squalifica. Capita proprio sul campo della Salernitana, è comunque un campo dove viene fuori sempre una bella partita con un bel pubblico, quindi una partita da voler giocare a tutti i costi, però purtroppo devo scontare questa squalifica e sicuramente i miei compagni sapranno fare il loro dovere. Piccolo flash, uno strascico dello scorso anno, di quella semifinale, immagino tu qualche notte forse non ci abbia dormito per quello che è successo. Possiamo dire più di qualche notte, è stato difficile perché ci giocavamo tanto e ci tenevamo a superare il turno, a giocarci comunque la finale. È stato un attimo. Sì, vabbè, in quel momento poi se in campo ti vengono in mente tante cose, però sicuramente dispiace e ancora oggi c'è tanto dispiacere. Che Pescara sta nascendo? Una squadra comunque attrezzata per fare un buon campionato, c'è comunque una base dell'anno scorso, anche a Empoli una squadra comunque forte, abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta che comunque sta lì, lotta su ogni pallone. Quest'anno il Mistre vuole che giochiamo un po' più avanti, di attaccare un po' più in avanti, di recuperare la palla nella metà campo avversaria e di ripartire subito. Quindi stiamo lavorando su questi concetti, speriamo già a Salerno di vedere una squadra votata all'attacco. Ma hai un po' bruciato la domanda successiva perché ti volevo chiedere un po' le differenze tra Zauri e Pilon. Sono queste, allo stesso modo lo 4-3-3 e quello che ci chiede in più il Mistre è questo, quello che quando perdiamo palla è di andare in avanti, di cercare di recuperare subito la palla, di non abbassarci troppo davanti alla nostra porta e così hai la possibilità di partire più alto, di sfruttare comunque le ripartenze dei giocatori in avanti. E' giusto dire che lì dietro ci sono gerarchie un po' più chiare, nel senso che siete meno over anche con l'addio di Perrotta, ci sono diversi giovani, uno molto bravo come Bettella, ecco lì dietro insomma forse ci sarà da battagliare di meno per conquistare il posto rispetto allo scorso anno. Ma non credo perché comunque siamo due per ogni ruolo, quindi c'è competitività tutti i giorni, ogni allenamento, e questo fa sì che comunque la squadra cresca e ha sempre comunque la voglia di allenarsi bene perché comunque c'è il compagno che se non fai bene è il Mistre, ha detto subito che qui non c'è nessuno che giocherà 40 partite, quindi ognuno ogni giorno deve dimostrare e quindi noi siamo pronti ogni giorno a giocarci il posto. L'ultima, che obiettivo ha il Pescara e quali sono i segnali favoriti di questo campionato? Io come dico sempre, perché secondo me il campionato di Serie B è difficile, magari ti poni un obiettivo e poi non ci arrivi, secondo me il primo è quello della salvezza, il primo obiettivo deve essere quello, arrivare a fare quanto più punti possibili per la salvezza, poi dopo la salvezza possiamo vedere questo Pescara dove può arrivare veramente. Ci sono molte squadre attrezzate quest'anno, secondo me più dell'anno scorso, ci sono veramente tante squadre, tre o quattro proprio che partono secondo me un passo più avanti delle altre perché hanno speso tanto, hanno preso giocatori di categorie e vogliono cercare di fare un campionato di alta classifica. e poi tutto il resto, quindi sarà un campionato difficile e c'è da combattere ogni partita.